La società Automare, titolare del Terminal Autovetture nel porto di Gioia Tauro, lancia un nuovo servizio ferroviario che collega le sedi di Ponte Cagnano e Gioia Tauro. Operativo dal 24 gennaio, il nuovo servizio ferroviario, espiegato in una nota dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Terreno Meridionale e Gionio, permetterà di trasportare le autovetture di produzione nazionale dalla sede di Ponte Cagnano direttamente al porto di Gioia Tauro. dove attraverso i servizi di Grimaldi Group partiranno per l'esportazione. Nel contempo le autovetture che arriveranno dall'estero al porto di Gioia Tauro potranno essere trasportate sempre via treno verso la sede di Ponte Cagnano per poi essere smistate in direzione delle destinazioni finali. Si tratta, continua la nota, di un nuovo servizio che rappresenta un passo importante nella creazione di un sistema logistico integrato in grado di gestire sia l'importazione che l'esportazione di autovetture attraverso una rete di trasporto sostenibile e ad alta efficienza. Questa nuova linea rappresenta infatti un significativo passo avanti nella distribuzione logistica consolidando la posizione di Automar come nubi centrale per l'esportazione di veicoli prodotti in Italia. Con circa 10 treni programmati a settimana sarà così rafforzata, si evidenzia, la connessione tra il centro Italia e Gioia Tauro e aumenterà la capacità di movimentazione e distribuzione dei veicoli prodotti nel nostro Paese. Nell'anno appena concluso, Automar ha registrato una crescita di oltre il 50% dei traffici portuali con una movimentazione ferroviaria organizzata in 256 treni in arrivo, 38.498 vetture trasportate e 12 treni in partenza, 2.182 vetture trasportate con una previsione per il 2024 di un ulteriore aumento del 50% dei traffici via treno.